Aveva realizzato quello che diceva essere il suo sogno dopo 30 anni di carriera il 15 ottobre 2019 Eziolino Capuano da Pesco Pagano tra le mille polemiche per quell'esultanza mai andata giù ai tifosi avellinesi ai tempi della Juve Stavia. Arrivato tra rabbia e scetticismo ha conquistato la piazza Biancoverde a suon di risultati innegabili come abbia rivoltato l'Avellino come un calzino portandola a veri e propri colpacci come le trasferte di Terni e Monopoli. 24 partite in totale con l'Avellino per Capuano, due di queste in Coppa Italia contro Cavese e Ternana 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte con 30 punti conquistati in campionato, 26 gol fatti e 25 quelli subiti. Numeri sicuramente importanti per un allenatore che però a 55 anni non ha mai assaporato la Serie A e la Serie B nonostante gli addetti ai lavori né elogino lo spessore tecnico e tattico. Un perché dovrà pure esserci per una gestione dello spogliatoio probabilmente non eccellente per troppi chiacchiericci attorno alla squadra pochi giorni prima della partenza per Terni. Di sicuro idee diverse con la società bianco-verde che ora potrà programmare il suo Avellino quello che D'Agostino non ha potuto ancora vedere causa forza maggiore. Probabilmente il patron vorrà vedere un Avellino più propositivo, probabilmente come nel calcio spesso accade le idee non sono le stesse, questo mondo è fatto così. Allora grazie e arrivederci, ora il club si tuffa nel futuro del quale non farà parte Eziolino Capuano.